Allora le lenticchie, bollite nell'acqua, dopo abbiamo il minestrone, notate bene le carote, superficie piselli, bisi, notate, bisi, carote, sedona, cipolla e via, così. Abbiamo messo anche il peperoncino perché a me piace il piccantino e dopo ci metto la curcuma e lo zenzero perché ragazzi vediamo a mettere lo zenzero, la curcuma e il peperoncino che fanno bene la curcuma soprattutto che non sarà tanto un buon sapore. Tanti consumano la curcuma anche dentro il curry, il curry ha un po' di curcuma, quello soprattutto indiano, dopo le altre curry, quello thailandese non lo conosco bene, anche perché non l'ho mai usato, probabilmente l'ho mangiato dentro i piatti quando andavo all'estero. Dunque questa è la mia cena, dopo mangio un frutto, mi bevo un caffè per rilasciarmi e via. Ciao ragazzi, buon appetito e sorriso sempre in alto!